carissimi amici e amiche bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi girare nella divina volontà che è appunto un ciclo di catechesi che serve ad approfondire questo meraviglioso e particolare peculiare modo originale di pregare di relazionarsi con dio di entrare in contatto con il suo amore che il signore ha insegnato alla piccola figlia della divina volontà la serva di dio luisa piccarrete attraverso di lei a tutti noi è una modalità di pregare e di appunto relazionarsi con dio un pochino atipica è una delle cose dire proprie singolari specifiche di questa chiamiamola spiritualità tanto per farci capire ma io non amo molto parlare di spiritualità a proposito di questo di questo mondo no è una rivelazione inerente all'oggettività delle cose così come stanno quindi non si tratta semplicemente di un modo come dire pittoresco o in qualche modo specifico di accostarsi a dio è un entrare in contatto con ciò che dio intrinsecamente è e col mistero della della sua volontà è molto importante perché questo modo di pregare è oltremodo santificante per la persona ma è anche enormemente fuoriero a più possiamo dire di ogni per l'umanità intera e non soltanto presente ma anche passata futura compresi i nostri cari padri e madri nella fede che beati si trovano già in paradiso quindi il testo che stiamo usando come riferimento lo dico sempre perché magari qualcuno entra in contatto con questa puntata è un testo di don pablo martin che ha avuto la pazienza di andare a raccogliere alcuni dei brani tratti evidentemente dal libro di cielo che parlano di questo peculiare modo di pregare il brano di oggi io sto seguendo l'ordine cronologico del libro anche se il libro non segue l'ordine cronologico dei libri dei 36 volumi quindi non so sinceramente don pablo in base a quale criterio li ha sequenziati li ha messi in questo nell'ordine in cui ci trovano io però seguo il libro e poi lo vedremo tutto siamo neanche ancora a metà quindi questo ciclo di categoria ci accompagnerà ancora abbastanza a lungo volume 27 24 ottobre 1929 nella divina volontà l'anima tiene tutto in suo potere perché trova la sorgente delle opere divine e le può ripetere quanto vuole per dare a dio la gloria delle sue stesse opere mi sentivo tutta abbandonata nel fiat divino seguendo ed offrendo tutti gli atti suoi tanto della creazione quanto quelli della redenzione e giungendo al concepimento del verbo dicevo tra me come vorrei nel volere divino fare mio il concepimento del verbo per poter offrire all'ente supremo l'amore la gloria la soddisfazione come se un'altra volta il verbo si concepisse ma mentre ciò dicevo il mio dolce Gesù mi ha detto muovendo il mio interno nella mia divina volontà l'anima tiene tutto in suo potere non vi è cosa che la nostra divinità abbia fatto tanto nella creazione quanto nella redenzione che il nostro fiat divino non ne possiede la sorgente perché esso non sperde nulla dei nostri atti anzi la devo usare di tutto e chi possiede il nostro volere divino possiede la sorgente del mio concepimento della mia nascita delle mie lacrite dei mie passi delle mie opere di tutto i nostri atti non esauriscono mai e come fa memoria vuole offrire il mio concepimento viene rinnovato il mio concepimento come se di nuovo concepissi risorga nuova nascita le mie lacrime le mie pene i miei passi ed opere risorgano nuovella vita e ripetono il gran bene che io feci nella redenzione sicché chi vive nel nostro volere divino è la ripetitrice delle opere nostre perché come della creazione nulla si è sperduto di ciò che fu creato così nella redenzione tutto sta in atto di sorgere continuamente ma chi ci spinta chi ci dà l'occasione di muovere le nostre sorgenti per rinnovare le opere nostre chi vive nel nostro volere in virtù di esso la creatura partecipa alla nostra forza creatrice perciò tutto può far risorgere a novella vita lei con i suoi atti con le sue offerte con le sue suppliche muove continuamente le nostre sorgenti le quali mosse come da un gradito venticello formano le onde e stradipando fuori i nostri atti si moltiplicano al e crescono all'infinito le nostre sorgenti sono simbolizzate dal mare se il vento non lo agita se non vengono non vengono formate le onde e le acque nostre fuori e le città non restano bagnate così le nostre sorgenti di tante opere nostre se il nostro fiat divino non le vuole muovere o chi vive in esso non si dà pensiero di formare nessun venticello con gli atti suoi sebbene siano piene fino all'orlo non straripano fuori per moltiplicare i loro beni a pro delle creature oltre a ciò chi vive nel nostro fiat divino come va formando gli atti suoi questi atti salgono al principio da donde uscì la creatura non restano nel basso ma salgono tanto in alto per cercare il seno di colui donde uscì il primo atto della sua esistenza e questi atti si schierano intorno al principio che è dio come atti divini dio nel vedere gli atti della creatura nella sua divina volontà li riconosce come atti suoi e si sente amato e glorificato come lui vuole col suo stesso amore e con la sua stessa gloria bene amici anzitutto per una singolare dioincidenza questo atto e questo questo brano scusate è del volume 27 del 24 ottobre del 1927 per una del tutto singolare dioincidenza noi siamo proprio arrivati nella meditazione dei volumi nella meditazione continua dei volumi del libro di cielo che per chi non lo sapesse sto curando da ormai diversi anni meditando uno per uno tutti quanti i brani siamo arrivati al volume 27 quindi questo brano che è del 24 ottobre sarà precisamente oggetto di meditazione tra qualche giorno evidentemente questo è uno stralcio del brano del 24 ottobre non è proprio tutto quanto o forse sì quindi andiamo veloci poi lo riprenderemo e anche il brano seguente è un brano del volume 27 che stavolta è il 6 ottobre e il brano del 6 ottobre l'abbiamo meditato qualche giorno fa quindi abbiamo queste singolari dioincidenze no 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 aspetta l'altro l'altro è del 6 ottobre del 27 è l'anno il 27 ma il volume 23 allora brevemente in questo brano tanto questo lo consideriamo da un punto di vista di ciò che interessa per la tematica dei giri allora anzitutto una cosa importante non esistono soltanto i giri nella creazione un giro ripeto questa è una catechesi un po' evidentemente tecnica no quindi non è una meditazione quindi qui facciamo un po' di formazione per quanto riguarda la comprensione per quanto umanamente possibile di questo mondo no si fa un giro ogni volta che si va si entra nella divina volontà e quindi si va a contemplare come dire non semplicemente contemplare però si parte dalla contemplazione quindi dallo sguardo dalla considerazione di una opera della divina volontà cioè dove vai vai perché nella creazione sono tutte opere della divina volontà ma ci sono anche nella redenzione qui per esempio il giro di cui si parla in questo brano è un giro nel fiat redimente si distinguono poi questi fiat con un linguaggio tecnico giri nel fiat creante quando si compiono nelle opere della divina volontà fatte nella creazione giri nel fiat redimente quando si compiono nelle opere della redenzione in particolare nell'umanità e nella vita e nelle opere di nostro signore e poi ci sono anche i giri nel fiat santificante anche qui sono infinite insomma di tutto e di più cioè tutto quanto ciò che si è prodotto di santificazione attraverso la vita sacramentale di ogni genere ma anche si può arrivare a tutti quanti i santi che sono vissuti si può come dire partecipare a quello che hanno fatto cioè io posso fare un giro per esempio nella vita di san francesco posso dire posso entrare nella divina volontà e dire al signore desidero unirmi alla gloria che ti rete san francesco quando scrisse il cantico delle creature e nella divina volontà ti rinnovo signore la gloria che tu hai ricevuto da questo bellissimo canto di questo grande santo non solo ma ci metto il mio ti amo e ci metto il mio voler portare quest'opera di san francesco dentro la divina volontà come se l'avesse fatta in essa perché la tua gloria si moltiplichi ancora di più ecco questo è un esempio per esempio prima che mi sono in mente di un giro nel fiat santificante allora qual è il il punto allora il punto è questo qui le opere della divina volontà per quanto riguarda dio sono ininterrottamente in atto nel suo eterno presente ecco soltanto che le opere della creazione le opere della redenzione sono state anche evidentemente compiute nel tempo quindi in dio sono eternamente in atto e non si fermano mai ma per noi non è proprio esattamente così allora che cosa succede quando uno fa un giro come in questo caso dice io vorrei tanto farmi il concepimento del verbo per poter offrire all'ente supremo l'amore la gloria la soddisfazione come se un'altra volta il verbo si concepisse uno sente questa cosa dice ma che sta dicendo questa 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 figliola che dice un'altra volta il verbo si concepisse perché fa questa cosa perché fa questa cosa e questo è il giro cioè se io faccio una contemplazione e tra qualche giorno ricordo la festa dell'annunciazione sarà quando è che si quando è sta concepito il verbo il 25 di marzo è la festa liturgica dell'annunciazione allora in quel giorno tutti quanti noi andiamo alla casa della santa casa di noreto dove c'è grande festa ci immaginiamo la madonna che riceve l'annuncio dell'arcangelo gabriere il suo fiat e contempliamo la grande opera dell'incarnazione del verbo ci mettiamo tutti quanti prostrati con la faccia a terra in adorazione e ringraziamo il signore di questa cosa che ha fatto questo è una cosa che si può fare tranquillamente questa è una cosa magari oggi non si fa tanto però quando non la spiega si capisce no o qui non si tratta semplicemente di andare a fare una contemplazione quindi a rievocare immaginandomelo un evento che nella storia è successo duemila anni fa per prestargli come doveroso il mio amore la migliorazione no quell'evento nella divina volontà che vive in una dimensione diversa dalla nostra che non è quella del tempo ma è dell'eternità addirittura increata quindi dove tutto ciò che è e che la divina volontà ha fatto anche nella storia è perennemente e ininterrottamente in atto e tra l'altro è in atto come un atto solo questa è una realtà per noi completamente trascendente quindi si può descrivere ma non si può capire come quando dio ha dato il suo nome a mosè e dice sono colui che sono io sono colui che sono è tanta roba o quando il grande aristotele giustamente il grande aristotele quando ha definito e anche santo masolo apprezzo questa definizione che poi gli sciocchi cominciano a dire ah che stupidaggini sono questo è il dio dei filosofi dice l'essere supremo oltre che motore immobile famosa questa la sanno tutti ma è anche atto puro quando Gesù dice che la divina volontà è l'atto unico del fiat supremo dice esattamente la stessa ed identica cosa perché conosce un pochino insomma di filosofia aristotelica dire atto puro o dire l'atto unico del fiat supremo è esattamente la stessa identica cosa proprio esattamente la stessa allora che succede però se io desidero che questo atto di Gesù non semplicemente io lo vado ad adorare e a contemplare ma riproduca cioè che cosa succede cioè che quanta grazia si è prodotta con l'atto dell'incarnazione del verbo un fiume non ce lo possiamo immaginare no che cosa è successo c'è successo qualcosa di bello se io voglio che questa cosa si rinnovi e gli effetti della grazia dell'incarnazione me li prendo io adesso li faccio miei e non solo li spando in modo universale indeterminato diffusivo dovunque dovunque ci sia qualcuno in grado di prendersene i benefici sia tra gli abitanti della terra sia tra gli abitanti del purgatorio sia dagli abitanti del paradiso perché ci spiega che questi effetti vanno a finire dappertutto perché anche i santi del paradiso che sono andati in paradiso sì sono andati in paradiso ma hanno compiuto i loro atti di virtù in questa vita almeno quelli che ancora non conoscevano queste cose è semplicemente come atti di virtù umana eroica in certi casi ma sempre come atti di virtù umana e io posso come dire fare a loro pensare noi che siamo poveri peccatori e piccolini dinanzi ai giganti che sono i santi però possiamo regalargli qualcosa anche noi non è roba nostra cioè questa è una cosa che si prende da dio e si e si fa circolare ci mettiamo soltanto l'intenzione e l'attenzione l'attenzione di fare questa operazione spirituale basta il resto non c'entriamo proprio niente queste non sono cose nostre ecco questo deve essere deve essere chiaro è come dice gesù ci guarda che noi ci abbiamo il mare delle nostre opere delle nostre grazie e di tutto quello che abbiamo fatto c'è bisogno di qualcuno come il vento dice se non soffia il vento le acque del mare sono calme ma se soffia il vento le acque del mare si increspano quindi il mare diciamo così si mette in movimento ecco noi praticamente mettiamo in movimento questo fiume di grazie questo lo possiamo fare ma in infiniti modi possibili d'accordo noi possiamo qui si parla del concepimento di gesù era non parlare della della nascita vogliamo parlare di quando gesù ha per la prima volta succhiato il latte dal seno della madre della circoncisi gesù per esempio per fare un po di giri nel fiat redimente tanto che qui ci siamo il rosario pregato bene il rosario pregato bene è un giro continuo nel fiat redimente come si fa per esempio a scusatemi se divago però credo che sia importante no perché il rosario lo facciamo più o meno tutti non so fare i giri come faccio allora ce l'hai già pronto il giro il rosario adesso ancora di più che giovanni paolo secondo ci ha aggiunto i misteri luminosi ah tu praticamente c'hai tutti quanti gli atti della vita terrena di gesù tutti quanti perché si comincia col concepimento di gesù e poi arriviamo ai misteri gloriosi dove c'è l'ascensione di gesù e poi la 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 glorificazione della madonna quindi il rosario è praticamente una miniera di giri nel fiat redimente pronto è chiaro che torniamo al discorso di prima no il mare è calmo quindi perché io trasformi la recita del rosario in un giro nel fiat redimente ci devo mettere del mio come si fa allora come si fa bisogna imparare avanti prima metterci l'intenzione quindi prima che si comincia a dire rosario dice io scorro su questi misteri li contemplo ma li contemplo facendoli miei mettendoci il mio ti amo e desiderando che tutto ciò che sto contemplando rinnovi i suoi effetti di grazia in me e in tutti nel padre nostro noi preghiamo al plurale nella Maria preghiamo al plurale prega per noi dacci oggi rimetti a noi ecco dopo di che quali aspetti vogliamo andare a cogliere qui qui si deve scatenare la fantasia no allora per esempio prendiamo l'annunciazione invece abbiamo dieci Ave Maria no perché non è che perché bisogna le prime volte bisogna imparare ci vuole un pochino di tempo qualcuno se ne può anche scrivere alcune cose no allora per ogni Ave Maria tu ti prendi un particolare vogliamo prendere l'annunciazione per esempio uno potrebbe partire prima della dell'annunciazione la prima Ave Maria il Proto Vangelo tu in un attimo fai tuo la promessa del riscatto dal peccato originale operata da Dio porrò l'amicizia tra te la donna tra la tua stirpe e la sua stirpe questa ti schiaccerò la testa e tu non siderai il calcagno questo perché perché l'incarnazione è esattamente il compimento di questa profezia del Proto Vangelo inizio il Proto Vangelo dopo di che prima di arrivare all'incarnazione dici i gemiti secondo Ave Maria i gemiti di tutti coloro che da dopo il peccato originale da Abramo in poi hanno cominciato a supplicare per l'avvento del Messia li faccio tutti i miei immaginiamo già questo che succede terza Ave Maria la Madonna da quando è stata da quando è stata concepita ha cominciato a bramare a fare una montagna di atti perché il Messia venisse li faccio tutti i miei li guardo un attimo al volo quindi è un'idea mentale quindi prima di dire l'Ave Maria nella mente ma ci vuole un attimo focalizzo il Proto Vangelo e parto non ci vuole se non ci vuole una settimana di rosario se uno si abitua è un attimo uno sguardo mentale non si allungano indefinitamente i tempi del rosario la quarta Ave Maria tanto per dirne una bene Dio dall'ordine all'Arcangelo Gabriele di partire che poi è una cosa istantanea però vabbè noi ce la focalizziamo arriva l'Arcangelo Gabriele e lì posso 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 rappresentarmi tutto quanto il saluto se non lo posso centelinare perché lì posso dire Ave già lì è Chaire vabbè piena di grazia tutta la grazia che c'è avuta la Madonna me la vado a prendere tutta quante la spando sul mondo intero ecco qui così abbiamo fatto strike il Signore è con te queste tre cose no Ave piena di grazia il Signore è con te e poi la reazione di Maria al saluto rimane turbata per la sua umiltà dice questo mi ha salutato così quindi e poi il dialogo non temere Maria che hai trovato grazie presso Dio e poi concepirei un figlio lo darai alla luce sarà grande e la Madonna che risponde ma come verrà questo non conosco uomo lo Spirito Santo scenderà su di te e su te scenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo tua cugina Elisabetta è già al sesto mese nulla è impossibile a Dio e la Madonna che risponde questo è il Fiat redimente proprio per Antonomasia no? Ciancilla Domini Fiat mici secondo non ci bastano le dieci varie dell'annunciazione quindi uno un giorno focalizza una cosa un giorno un'altra ma se uno dice il rosario così amici miei arrivederci cioè è proprio una già il rosario di per sé è sempre una bomba atomica ma così diventa proprio non so neanche io che cosa diventa cioè non oso immaginare sono giri nel Fiat redimente qual è la differenza? è la differenza che tutta quanta quella marea di grazia che uno nel rosario scorre contemplandola diventa attiva ed efficace hic et nunc si dice in latino qui ed ora per me e per tutti basta che io ci metto l'intenzione di voler ripercorrere queste cose nella divina volontà ci metto il mio ti amo il mio ti adoro il mio ti benedico il mio ti ringrazio li faccio miei per me e per tutti cadiamo che bombe leggiamo un altro brano stavolta scendiamo al volume 23 6 ottobre 1927 stavo continuando i miei atti nel Fiat divino ed il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia chi opera nella mia volontà lavora nelle mie proprietà divine ed essa forma negli interminabili miei beni di luce di santità di amore di felicità senza fine e gli atti suoi i quali si trasformano in tanti soli riprodotti questi soli dalle mie stesse qualità che si sono prestate all'atto dell'anima per decoro di lei e per fare che fossero atti degni del suo creatore e per rimanere questi atti come atti perenni in Dio stesso che lo glorificano lo amano questi stessi atti divini questo è un brano un pochino lungo facciamo così faccio dei pit stop non lo leggo tutto perché dopo diventa più complicato riassumere allora qui già Gesù spara mi si passi se espressione un pochino delle bombe non indifferenti allora operare nella divina volontà quindi formare i nostri atti in essa quindi e Gesù rispecifica sono interminabili beni di luce di santità di amore di felicità senza fine appena li vai a smuovere tu li fai i tuoi e li diffondi in giro e attenzione però quando si fanno queste operazioni i nostri stessi atti diventano dei piccoli soli e che significa questo sappiamo tantissime volte Gesù paragona la divina volontà al sole divino e agli effetti che produce una delle cose che ha il sole una delle sue caratteristiche è che il sole sta sempre là il sole è solo punto e basta allora attenzione perché un atto fatto nella divina volontà oltre che diventare degno di Dio rimane attenzione come atto perenne in Dio stesso cioè non è trasformare un atto umano in un atto divino significa assorbere in quell'atto umano le caratteristiche degli atti divini eterni immensi infiniti santissimi altrove negli scritti Gesù per esempio spiega al riguardo che gli atti che ha fatto Adamo prima del peccato originale sono completamente intatti cioè lui poteva diventare anche il più grande criminale e non lo è stato poverino ha fatto solo il peccato originale ha fatto solo questo ma se anche fosse diventare il più grande criminale quelle cose che aveva fatto nella divina volontà rimangono a testimonianza perenne rimangono come atto perenne non ci si può fare non ci si può fare niente sono stati divinizzati sono stati attratti nell'orbita di Dio sono diventate una sorta di cose quasi sue e una volta che uno li ha messi in giro queste cose cioè qui capite qui si entra in orizzonti per questo che questo è proprio un mondo veramente immenso cioè io credo che nessuna mente umana possa rendersi nemmeno lontanamente conto di queste per questo che Gesù anche tante volte con questa con quest'anima torna gliele spiega gliene parla lui se le faceva in continuazione queste cose ma le faceva anche lei sulla base della fede senza rendersi conto di tutto quello che che questa roba mette in giro non ce ne rendiamo conto neanche noi noi viviamo nel tempo no? gli atti che io per esempio ho fatto l'altro ieri quelli sono tutti quanti eternizzati e stanno fissi nell'eternità di Dio a produrre incessantemente gli effetti incessantemente gli effetti quelli che ho fatto il giorno dopo sono altri atti che stanno di nuovo in Dio ancora a produrre incessantemente gli effetti cioè che succederà? ma guarda io non ne ho come dire focalizzo nel senso guardo dopodiché dico ma ma in senso buono che cosa uscirà fuori da tutta questa roba qui? sicuramente tanta tanta roba ed ecco io non avevo letto avanti proprio qui Gesù prosegue onde Adamo prima di peccare formò tanti soli nel suo creatore per quanti atti fece o parola che non avevo letto però immediatamente pensando a queste cose mi era venuto da pensare agli atti di Adamo e adesso ne parla Gesù ora chi vive d'opera nella mia volontà trova questi soli fatti da lui quindi il tuo impegno di seguire i primi atti della creazione di prendere il tuo posto di lavoro vicino all'ultimo sole oppure atto che fece Adamo quando possedeva l'unità di volontà col suo creatore deve supplire a ciò che lui non continuò a fare perché uscì da dentro le mie proprietà divine i suoi atti non furono più soli perché non teneva più in suo potere le mie qualità divine che si prestarono a fargli formare i soli al più si ridussero i suoi atti per quanto buoni a piccole fiammelle perché la volontà umana senza la mia non tene virtù di poter formare i suoi le mancano le materie prime questa è un'immagine che Gesù fa molto spesso tornando all'esempio di di prima del fiat redimente così ce lo portiamo avanti se tu il 25 di aprile come doveroso adori il mistero dell'incarnazione è una cosa meravigliosa ed è santificante ma è una fiammella se tu fai lo stesso atto ma con l'intenzione di entrare in quel mistero chiedere a Gesù che ne rinnovi gli effetti e lo possiamo fare basta entrare basta fondersi con la divina volontà entrare in essa perché quel mistero sta in atto nella divina volontà fai questa operazione per te e per tutti e che succede? boom con lo stesso atto la fiammella diventa sole con lo stesso atto così come nell'esempio di prima il rosario è sempre lo stesso ma se tu fai un rosario normale fiammelle se tu fai un rosario girando nella divina volontà soli rimanendo perché per fare il sole dice Gesù tu puoi essere il più santo di questo mondo ma non c'hai la materia prima per farlo perché il sole è una cosa divina il sole l'ha fatto il nostro signore noi non abbiamo la capacità di fare i soli adesso qui stanno tutti tanto preoccupati con i problemi energetici con le energie elettriche noi sappiamo fare lampadine non sappiamo fare i soli sarebbe prosegue per farci ancora capire come se tu volessi formare un oggetto d'oro senza che avessi in tuo potere il metallo dell'oro per quanta buona volontà avessi ma ti riuscirebbe impossibile come si fa a fare l'oro senza l'oro come faccio a fare un oggetto d'oro se non c'ho l'oro non lo posso fare dice no ma io ci metto ci metto tutta quanta l'energia possibile ci metto tutto l'impegno figlio mio Dio ti benedica ma l'oro non lo puoi fare solo la mia volontà prosegue la situazione tiene luce sufficiente per fare formare i soli alla creatura e dà questa luce a chi vive in essa nelle sue proprietà non a chi vive fuori di essa onde devi vivere tutte le altre creature che non hanno posseduto l'unità con la mia volontà il tuo lavoro è grande e lungo hai da fare molto negli interminabili miei confini perciò sia attenta e fedele devi fare molto per tutti quelli che sono vissuti fuori di essa cioè in questo senso stretto tutti d'accordo perché in questo senso stretto del fare gli atti in questo modo anche i santi non sapendo queste cose non l'hanno fatte quindi continuavo i miei atti nel suo volere adorabile e girando vedete per tutta la creazione il mio sommo bene Gesù ha soggiunto ecco adesso qui vediamo come Gesù introduce Luisa dentro un bel giro nella nella creazione no figlia mia come la mia volontà divina è sparsa in tutta la creazione ricordiamo la mia volontà divina è sparsa in tutta la creazione così tu unita con essa voglio trovarti in tutte le cose create come sparsa in ciascuna di esse sarai il cuore della terra per trovare la tua vita palpitante in essa che col suo palpito continuo mi attesta l'amore di tutti i suoi abitatori questo è un altro punto fondamentale questo qui questo è un altro punto fondamentale dei giri mi fermo un attimo quando facciamo un giro non solo io attivo le potenzialità diciamo così di grazia di bene di felicità di santificazione che quell'opera della divina volontà ha in se stessa e me li prendo per me e me li prendo per tutti ma faccio anche un processo contrario cioè io do il ricambio d'amore a Dio che ha fatto questa cosa lo faccio contento perché la riconosco e la faccio mia ma al tempo stesso operando sempre nella divina volontà e questo è un'intenzione da metterci nel giro io do il ricambio di amore non solo per me ma per tutti quelli che non l'hanno fatto ti amo e ti ringrazio ti rodo e ti benedico per me e per tutti uno può cioè ognuno deve far lavorare un pochino la fantasia noi dico queste cose ecco e torniamo sempre al mistero dell'incarnazione 25 marzo tra qualche giorno dico signore mio io entro nella divina volontà facciamo un'esemplificazione d'accordo contemplo questo atto meraviglioso ti ringrazio infinitamente ti amo e ti ringrazio di questa operazione per me e per tutti quelli che non ci pensano che non ti hanno mai ringraziato o perché non conoscono questo mistero o perché cosa molto più grave pur essendo battezzati e cattolici non lo calcolano proprio non ci pensano mai non ci hanno pensato mai mo sto divagando un po' eh per far capire e desidero tutta quanta la il fiume di grazie che è uscito in questo atto cosmico cioè il verbo che si fa carne che rinnovi e che sprigioni tutta la potenza di grazie per me e per tutti questo è un giro fatto nel Fiat redimente si può esprimere con pochissime parole quindi da un punto di vista proprio materiale sintetizzando ci vogliono dieci secondi a fare un giro di questo genere facciamo la prova entro nel mare della divina volontà oh signore adoro amo benedico e ringrazio il mistero della tua incarnazione per me e per tutti ne faccio miei gli effetti per me e per tutti finito se uno vuole proprio beh poi se ci mette un po' di dentro questo mondo poi capiamo che il nostro signore vuole che noi ci mettiamo del nostro perché dentro questa dinamica deve poi partire un interscambio di amore cioè il giro è amore riconosciuto e ricevuto e amore ricambiato ho sempre detto io in giro ho messo qualche che non mi piacciono neanche tanto comunque come so come di qua qualche giro nel Fiat creante nel Fiat redimente nel Fiat santificante 4-5 episodi stanno in questi podcast si trovano soltanto negli MP3 nella mia diciamo parco MP3 non ne ho fatti troppi perché quelli vogliono essere come dire un'esemplificazione tra l'altro un giro non può mai essere fatto troppo troppo bene perché un giro è una cosa personale l'amore personale che noi abbiamo nei confronti di Gesù cioè quello intimo non può essere messo in giro non posso mettere in giro il giro perché c'è il mio cuore c'è la c'è c'è il profondo della mia persona c'è la mia intimità che devo conoscere soltanto il Signore allora lì ho fatto delle cose che per questo non piacciono per niente perché sono un pochino formali però che se poi che vai a mettere in giro posso mettere in giro le cose no per aiutare le persone un attimo a capire di cosa si tratta perché poi vadano qui si va e si va col cuore proprio con la personalità propria con l'anima propria che è diversa rifacciamo i consigli per gli acquisti libro di tenera amata tradotto da Don Pablo Martin che è lo stesso che ha fatto questa raccolta di iscritti no ecco non a caso lì si spiegano non mi stancherò mai di ripeterlo che quando andremo in paradiso speriamo conosceremo il nostro nome nuovo tenera amata non si chiamava tenera amata aveva un nome quando era sulla terra ma quando appare a quest'uomo a questo astro fisico gli dice come mi chiamavo sulla terra non ha nessuna importanza nessuna il nome nuovo però non te lo posso dire perché se tu sentissi sulla terra il nome nuovo che io ho cioè il nome che Dio mi ha dato e quello che caratterizza il mio essere profondo il mio modo di amare Dio e il mio modo di ricevere l'amore da Lui che è unico e ripetibile tu moriresti di gioia non te lo posso dire non lo reggi allora tenera amata è un nome è un nome di fantasia che lontanamente ricorda il mio nome nuovo ma capite che significa questo cioè che il tuo giro nella creazione nell'incarnazione è il tuo e devi far uscire fuori quello che c'è dentro il tuo cuore e il Signore lo vuole vedere io penso che una persona che non ha mai imparato a pregare cioè nel senso perché pregare certamente noi dobbiamo stare dentro i canoni della preghiera il Padre Nostro non si discute insomma l'Ave Maria non si discute il Rosario non si discute la liturgia dell'ora non si discute la messa pure quindi cioè tutto quello che il Signore e la Chiesa ci hanno consegnato è chiaro che è la base della preghiera no? però non può essere tutto qui perché la preghiera comporta un'instaurazione di un rapporto personale con Dio che ci deve essere e che a quanto insomma la mia esperienza mi insegna pochissimi coltivano o se tu vuoi fare queste cose lo ti fai per forza per forza perché se tu la voglia di dire mi spieghi come faccio il giro io ti ho detto qualche cosa adesso ti ci devi mettere a farlo tu inventati qualcosa stimola la fantasia se uno volesse cominciare a fare i giri soltanto nei 33 anni di vita terrena di Gesù in tanti piccoli dettagli che poi la fantasia te li susciterà ma non finisci più non finisci ecco perché lui se ci passava le giornate intere allora e riprendo la lettura sarai il cuore della terra per trovare la tua vita palpitantinessa che col suo palpito continuo mi attesta l'amore di tutti i suoi abitatori l'amore di tutti sarai la bocca del mare e mi farai sentire la tua voce nelle sue onde altissime e nel suo murmurio continuo che mi lodi mi adori e mi ringrazi sottinteso per te e per tutti e nel guizzo dei pesci mi scocchi i tuoi baci affettuosi e puri per te e per quelli che valicano il mare capito è un giro di questo genere come si fa oh mio signore io entro nei pesci che tu hai creato visto quando muovono le lambe quando muovono la bocca come fai il pesce no? fa fa quel movimento che apre e chiude la bocca no? può somigliare lontanamente parlando a un bacio ecco io attraverso questa cosa ti riempio di baci e quanti sono i pesci che sono stati e saranno tanti sono i baci che voglio darti tanto per dire ne uno e questo fuso con la divina volontà quindi in quel bacio ci porto le opere di tutto quanto l'universo intero ci porto quello che ha fatto la Santissima Trinità capite che cosa va a succedere? continua sarai le braccia del sole che distendendoti e allargandoti nella sua luce dovunque io senta le tue braccia che mi abbracciano vengono forti per dirmi che solo me cerchi solo me vuoi e dammi qui la stai imbeccando Gesù no? sentite questo questo giro sarai le braccia del sole che distendendoti e allargandoti nella sua luce dovunque io senta le tue braccia capite che il Signore vuole sentire le braccia nostre che mi abbracciano mi stringono forte per dirmi che solo me cerchi solo me vuoi e solo me ami bellissimo questo qui voglio vedere chi aveva mai pensato di fare un giro nel sole e così dice guarda attraverso quei fasci di luce quei fasci di luce Signore sono le mie braccia con cui io ti avvolgo e ti dico che te solo cerco te solo desidero e te solo voglio e te solo amo io non ce l'ho mai pensato a un giro di questo genere diciamo con la mia fantasia sarai i piedi del vento quindi le braccia del sole ai piedi del vento il vento che c'ha i piedi per il vento c'ha i piedi perché perché si muove no? il vento è il movimento per antonomasia e che cosa succede? per corrermi appresso e farmi sentire che il dolce calpestio dei tuoi passi che mai lasciati correre ancorché non mi trovi Gesù ha detto nel Vangelo venite vieni seguimi no? oh Signore io ecco ti seguo ti seguo sulle ali del vento ha parlato dei figli del vento chiunque è rinato dall'acqua e dallo spirito santo è come il vento il vento soffia dove vuole e ne senti la voce no? non sono contento se non trovo la mia piccola figlia in tutte le cose da me create per amore suo a tutta l'aggressione domando c'è la piccola figlia della mia volontà perché voglio godermela e trattenermi con lei e se non ti trovo io perdo il mio godimento e il mio dolce trasturro signora che parla in questo modo ancora dopo di ciò seguo il mio amato Gesù negli atti che fece nella redenzione quindi passiamo dalla creazione alla redenzione vedete dire nel fiat creante dire nel fiat redimente cercavo di seguirlo parola per parola opera per opera passo per passo non vorrei nulla che mi sfuggisse per premurarlo e chiedere il nome di tutti gli atti suoi le lacrime sue le preghiere le pene sue e il regno della sua divina volontà in mezzo alle creature ed il mio adorato Gesù mi ha detto figlia mia quando io stavo sulla terra la mia volontà divina che per natura regnava in me attenzione a questo termine per natura mentre nella Madonna regnava non per natura ma per grazia così come in tutti quanti gli esseri umani in cui speriamo che presto regni e regnerà nella santissima umanità di Gesù regnava per natura perché la santissima umanità di Gesù non è in se stessa sussistente ma sussiste solo in quanto unita alla persona divina del verbo quindi la divina volontà ci abita e ci regna per natura non per grazia ad ogni incontro lasciavano dice allora rileggo figlia mia quando io stavo sulla terra la mia volontà divina che per natura regnava in me e quella stessa volontà divina che esisteva e regnava in tutte le cose create quindi la volontà divina che regna in me e quella stessa volontà divina che esiste e regna in tutte le cose create che cosa facevano? ad ogni incontro si baciavano insieme sospirando il loro incontro facevano festa e le cose create facevano a gara per incontrarsi con me e darmi gli omaggi che mi convenivano la terra come sentiva i miei passi per darmi omaggio l'inverdiva e fioriva sotto i miei piedi che belle cose che ci racconta Gesù volevo uscire dal suo seno tutte le bellezze che possedeva l'incanto delle fioriture più belle al mio passaggio tanto che io molte volte dovevo comandarle che non mi facesse queste dimostrazioni ed essa per darmi omaggio obbediva così come per farmi l'onore fioriva capite che cosa il nostro signore va a dire alla terra non mi fiorire sotto i piedi se no se passo io dopo capiscono troppo facilmente che io sono il figlio di Dio e dopo la fede e dopo la mettiamo la fede insomma o poi a Gesù poi non piacevano molto come dire le cose sensazionali quindi che attiravano in qualche modo l'attenzione le ha fatti i miracoli ma ha fatto quelli che erano necessari opportuni a motivazioni al momento e allora ben precisi e perfino ben precisi il sole cercava sempre di incontrarsi con me per darmi gli omaggi della sua luce sprigionando tutte le varietà delle bellezze dei colori dal suo seno solare innanzi alla mia vista per darmi gli onori che meritavo tutto e tutti cercavano di incontrarmi per farmi la loro festa il vento l'acqua l'uccellino per farmi gli onori dei suoi trilli corgheggi e canti tutte le cose create mi riconoscevano e si mettevano a gara a chi più potesse onorarmi e farmi festa attenzione chi possiede la mia divina volontà attenzione questo stampiamocelo in camera tiene la vista di conoscere ciò che appartiene alla mia stessa volontà in tante meditazioni ho parlato di questa cosa quando la divina volontà comincia ad abitare in noi certo dobbiamo sempre metterci l'attenzione all'intenzione ma parte quasi spontanea cioè il passaggio qualunque cosa bella che si veda parte quasi spontanea il passaggio qualunque cosa bella che si oda qualunque cosa bella che si beva che si mangi d'accordo parte quasi spontanea il passaggio perché tiene la vista di conoscere ciò che appartiene alla mia stessa volontà Gesù sta dicendo anche un'altra cosa che le cose create per la presenza della divina volontà in quanto lei le aveva create in loro riconoscevano quella stessa divina volontà regnante loro in Gesù per questo che gli facevano festa prosegue solo l'uomo non mi conobbe e perché l'uomo non per come mai non hanno riconosciuto Gesù in molti perché non regna in loro la divina volontà quindi è complicato ci vuole la conversione ci vuole una tante cose perché per noi Gesù in sé in quanto esseri umani purtroppo figli di Adamo e di Eva quindi orbati del dono della divina volontà è un perfetto sconosciuto un perfetto estraneo non ci abbiamo niente in comune con lui purtroppo attenzione sto parlando evidentemente prescindendo da tutte le grazie che il Signore ci ha dato a noi chi ascolta questa meditazione si spera insomma che siamo battezzati su pure prete quindi tanta grazia tanta roba ora lui non mi riconosce dovetti dirglielo per farmi conoscere io sono il figlio di Dio che l'ha detto perché non erano in grado di riconoscerlo ma molti con tutto il mio dire neppure mi credettero perché chi non possiede il mio volere è cieco è sordo è senza odorato non c'ha il naso non c'ha non senti odore di volontà divine per riconoscere ciò che adesso appartiene invece chi sta dentro diviene il cianaso e il naso viene anche per riconoscere la volontà divina in tantissime cose nelle scelte di vita e anche per riconoscere lì dove la divina volontà non ci sta ma ci sta altro ci stanno gli inganni c'erano tante cose belle quindi il non possederlo è l'infelicità più grande della creatura è il povero cretino Gesù dice cretino quindi cretino si può dire ricordo che parlavo tempo fa con un con un fratello che diceva che cretino si può dire perché Gesù l'ha detto credo negli scritti eccolo è il povero cretino cieco sordo e muto che non possedendo la luce del mio fiat divino se ne serve delle stesse cose create per prendere gli escrementi che essi gettano e lascia dentro di esse il vero bene che contengono amma mia che dolore vedere le creature senza la nobiltà della vita della mia divina volontà amici cari siamo arrivati quasi siamo andati oltre il tempo medio di questa di questa catechesi quindi mi mi fermerei sperando che ecco ci sia rimasto qualcosa e dopo ognuna di queste di queste catechesi se uno si vuole fare un bel regalo ecco mettere in pratica e provare ad esercitarsi quindi a metterci del nostro e a crescere in questo modo perché qui dobbiamo fare il pieno di grazia il pieno quando si fanno queste operazioni noi non ci rendiamo conto come quando andiamo a fare la comunione non ci rendiamo conto ma arrivano fiumi di grazia queste operazioni fanno smuovono fiumi di grazia per noi e per tutti sono le cose più grandi che possiamo fare anche per gli altri tutti i buoni cristiani dovrebbero sapere e concludo che la cosa più grande che si può fare è la prima da farsi sempre è la preghiera sempre ma questo modo di pregare le moltiplica ripeto si pensi i rosari fatti in questo modo che già il rosario è una bomba atomica in sé pensiamo se uno impara e non ci vuole tanto provateci a fare qualche rosario girando nelle opere della redenzione che sono tutte quante passate in rassegna quelle essenziali pensate che cosa può diventare quel rosario tanta roba bene amici al prossimo mese per una prossima puntata su queste frequenze Dio vi benedica e la Madonna vi protegga di Bufi per una prossima puntata che si può diventare il nostro corso non ci vuole spettare a un spettatore di Bufi per una prossima puntata a un spettatore